Sanno le aziende che devono cambiare, comunque è un settore ancora rimasto poco digitalizzato. Per farlo è necessario ridurre appunto la dipendenza dell'IT per quanto riguarda l'analisi del dato, l'IT è importante per quanto riguarda la messa a disposizione del dato e fornire la governance, ma appunto è importante coinvolgere invece direttamente il business sul tema dati, garantendo la governance tramite l'IT, ma dando degli strumenti facili da usare che consentono loro di andare a tirasoli e ritenere i loro risultati. In questo caso posso vedere come si divide il Picking totale tra Picking a singole scatole o a strati per magazzino e facendo delle down addirittura per categoria all'interno dello stesso magazzino. Ci siamo tui qui. . . Grazie a tutti.